Grazie per la visione! 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 E tutti abbiamo bisogno di difendere i nostri diritti, per cui volevo aggiungere proprio la lettera E a tutte quelle che voi avete nelle vostre... Iscriviti all'Associazione Radicale Certi Diritti, anche per evitare che l'Associazione Radicale Certi Diritti si iscriva a te, perché è anche capace di questo. Ciao a tutti! Grazie! Grazie per la libertà e i doveri che dà... Che stifezza! L'altra volta! Vedi cosa potrebbe succederti se non ti iscrivi a certi diritti? Sono Sergio Rovasio, se ti invito io a iscriverti a certi diritti è perché ce n'è davvero bisogno. Non puoi urlare di paura e di spavento perché in questo Paese non ci sono mai diritti civili e diritti umani. Aiutaci e vedrai che non avremo più paura e andremo... No, 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 no! Va bene quello di prima! Vedi cosa potrebbe succederti se non ti iscrivi a certi diritti? Grazie a tutti!